La lunghezza del percorso, oltre 160 metri, il dislivello che affronta e l'ambiente incantevole in cui è immersa, sono le caratteristiche che rendono la struttura una delle prime teleferiche di tutta Italia. La teleferica che è una delle attrazioni che propone il Parco Natura Montalbano che sarà inaugurato sabato pomeriggio a partire dalle ore 16 presso l'agriturismo Baldi Franco, Podere Santa Rita, al civico 199 di Via Catavoli. Questa struttura che cosa propone? Che struttura è? Per il momento il Parco Natura Montalbano propone due diversi tipi di percorsi. Uno per adulti, costituito da due zip line, accessibili a tutti gli adulti e ai ragazzi di un'altezza superiore ai 140 centimetri. E' un percorso baby al quale possono accedere tutti i bimbi di altezza superiore ad un metro. In più abbiamo allestito anche una piattaforma con casa sull'albero. Sarà una piattaforma panoramica che utilizzeremo anche per svolgere attività sia con i privati, compleanni per bambini e per ragazzi, ma anche attività rivolte alle scuole e quindi osservazioni naturalistiche, bird watching e attività didattiche in genere. Tanto più in questi contesti, diciamo, che non sono proprio tra i più felici, perché un imprenditore come lei decide di fare un investimento simile? Intanto perché sono sempre stato, non è per dire, ma un po' un innovatore, nel senso che quando abbiamo aperto il primo agriturismo nella piana di Pistoia negli anni 90, io sono stato il primo agriturismo nel comune di Pistoia legato al vivaismo, che al momento sembrava una cosa fuori del mondo, una cosa impossibile. Oggi quasi tutti i vivai, almeno quelli un po' più grandi, hanno il loro agriturismo. Ho visto questi parchi un po' in altre zone d'Italia, specialmente anche qui nella nostra montagna, a Doganaccia. E da lì ho maturato un po' l'idea, perché avendo qua questa posizione, questo terreno, che sono 10 ettari qui nel comune di Serravalle, sul Monte Albano, mi è venuta già da un paio di anni questa idea di poter realizzare qui anche qualcosa di simile. E in effetti, insomma, ci siamo riusciti, è venuta fuori anche una buona cosa. Come investimento, diciamo, sì, è un investimento che, come tutti gli investimenti, si spera anche che possano essere fruttuosi, che possano essere fatti bene. Più che altro è anche una cosa che intanto è legata all'attività qui di ristorazione che abbiamo, cioè non è una cosa isolata, quindi è già supportata dall'attività di ristorazione. E poi è per offrire sempre qualcosa di diverso, quindi bisogna sempre cercare un pochino di rinnovarsi, di differenziare, di fare anche nuove proposte. E questo credo che sia una proposta abbastanza innovativa, abbastanza nuova, per scoprire sempre meglio la natura dei nostri luoghi e valorizzare anche i possedimenti che abbiamo.